Protezione civile. In alcuni punti l'acqua ha raggiunto i 70 centimetri, puntualmente allagati e nocciolieti nella piana della peschiera. Gli abitanti della piccola frazione di Forino si dicono disperati. Ormai le emergenze quotidiane avvertono e non sappiamo più a chi rivolgerci per tentare di risolvere un problema che viviamo sulla nostra pelle da oltre 20 anni. I cittadini invitano il prefetto a prestare attenzione all'inferno d'acqua di Chelsea. Un dramma che tutti conoscono ma nessuno riesce a risolvere. L'assessore alla protezione civile Ercolino intanto cerca di calmare gli animi. La burocrazia ha rallentato gli interventi predisposti dal Comune. Dice ma entro la fine del mese entreranno in azione le due pompe di aspirazione. Come testimonia anche l'immagine, nemmeno 15 giorni fa abbiamo fatto l'ennesima denuncia per questa problematica. Dopo 15 giorni con le prime piogge ci ritroviamo di nuovo a denunciare questo disagio che noi abbiamo noi cittadini. Io penso che così non si può andare avanti perché prima era un'eccezione, adesso è diventata una regola, sembra che sia diventata una regola. Purtroppo la piana peschiera è letteralmente invasa dall'acqua. L'acqua non ha più sfogo e quindi ogni volta che piove ci crea questa problematica. Io sinceramente non so più come denunciarlo. Questo emittente è testimone come le altre che stiamo sempre a fare le solite denunce. Non sapete più come dirlo e né cosa fare. Sinceramente non sappiamo più non residenti come gridarlo. Questo è un grido di allarme in tutti i sensi. Io mi vorrei rivolgere anche alle massime istituzioni del territorio, magari anche al prefetto che si possa prendere carico di questa situazione perché il prefetto sicuramente è l'organo che rappresenta lo Stato in Irpinia. L'anno scorso gli abbiamo inviato anche una lettera cercando di fargli capire le problematiche, di portare a conoscenza di questo problematica. Adesso, ripeto, non è un'eccezione, ma qua è una regola. Noi abbiamo letteralmente paura, ma paura perché ogni volta che piove, ieri abbiamo passato una domenica infernale perché con la paura. Noi come Comune ci siamo attivati, infatti comunico che abbiamo espletato le gare per la pulizia delle vasche a Monte per togliere i residui solidi all'interno per rimanere una capacità maggiore ricettiva di acqua e di ingiacenza all'interno di queste vasche. Poi a breve verranno sostituite due pompe che oggi non sono funzionanti perché ne funziona una solamente con i contributi regionali con l'emergenza dell'anno scorso. I tempi burocratici ci hanno tolto un sacco di tempo, però adesso partiamo. Poi come Comune abbiamo istituito un numero verde per l'assistenza alla popolazione, infatti come si vede, come avete visto già le altre volte, i ragazzi dell'associazione locale di volontariato di protezione civile garantiscono il supporto alle famiglie. Con il numero verde vengono avvisati e chi deve uscire a entrare da casa vengono accompagnati e riportati a casa. Grazie. 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 Grazie.